Il countdown è ufficialmente partito e cresce la curiosità rispetto a quelli che riusciranno a trionfare. Si terrà nel mese di marzo a Roma l'undicesima edizione degli Italian Sportate Awards lanciati ufficialmente nel 2012. Una manifestazione organizzata da Conf Sport Italia e ideata per celebrare i grandi talenti del nostro paese, quelli che più di altri sono riusciti a lasciare il segno durante il 2022. Conduzione affidata come sempre a Cristina Chiuso e Carlo Molfetta, due ex atleti capaci di togliersi tante soddisfazioni rispettivamente nel nuoto e nel taekwondo. Un premio sicuramente che sta crescendo molto, si sta evolvendo, fortunatamente diventa sempre più importante. I ragazzi, gli atleti che arrivano in nomination si sentono sempre più fieri di essere in nomination. Ciò vuol dire che sta iniziando a diventare veramente qualcosa di grande, sperando che magari un giorno diventi veramente il fiore all'occhiello di tutto lo sport italiano. Gli atleti normodotati e gli atleti con disabilità gareggiano virtualmente spalla a spalla nelle stesse categorie. Questa è una cosa a cui noi teniamo tantissimo. La presenza del campione dei ragazzi e quindi dare voce agli under 16 perché siano loro, a dirci qual è il loro modello di riferimento e cosa pensano dello sport e poi il premio speciale di quest'anno che è un messaggio a cui noi teniamo molto, diversità e inclusione nello sport perché lo sport non è soltanto grandi prestazioni sportive. Lo sport è uno strumento importantissimo se utilizzato correttamente. Le associazioni che sono in finale davvero ne fanno un ottimo utilizzo. Tanti anche quest'anno i premi da assegnare nelle varie categorie, ognuna delle quali contraddistinta da cinque finalisti, dalla top uomini e top donne dove figurano pure Gregorio Paltrinieri e Sofia Goggia, alla team giovani senza dimenticare la team misto con Chiara Pellacani e Matteo Santoro, giusto per fare un paio di nomi. Difficile scegliere tra i tanti sportivi in Alizza per vincere e selezionati da una giuria composta da persone qualificate. Sono 11 anni ormai che abbiamo ideato questo premio con Cristina Chiuso. Ogni anno il premio diventa sempre più importante sia per quanto riguarda le federazioni sportive che sia per quanto riguarda i gruppi sportivi, civili e militari dove da due anni hanno inserito nella giuria diciamo dell'elite, quelli che sono i loro rappresentanti, proprio per inserire anche i loro giurati e quindi dare il loro contributo per le nomination. Riflettori accesi su diverse discipline, non soltanto sul calcio, popolare e blasonato, ma non per questo superiore alla pallavolo, alla basket o alle arti marziali. Gli Italian Sportate Awards sono pensati per chi suscita emozioni nei confronti degli appassionati e questo può accadere nel pugilato così come nel tiro con l'arco. Purtroppo alcuni di questi sport non sono, uso un termine magari un po' improprio, ma non sono calcolati né dai media e quindi né dalla carta stampata né dalla televisione. Ma il fatto che questi atleti hanno avuto dei grossi risultati, probabilmente tra i nostri giurati, adesso vedremo anche quando ci saranno le votazioni, ha suscitato interesse. Come dicevo anche in conferenza stampa, la cosa importante è che i nostri giurati, in modo particolare per esempio chi viene dal mondo dello spettacolo e che quindi non è molto a contatto con lo sport, ha in qualche maniera studiato, ha letto i giornali, si è documentato e quindi ha visto che questi sport, così e ti minori invece hanno una notevole importanza. C'è anche spazio non solo per gli sportivi quest'anno, ma anche per chi cerca di fare molto per la comunità, aiutando in ogni modo per come gli è possibile, quindi anche questo aspetto credo che sia abbastanza importante. Sì, ogni anno appunto c'è il premio speciale, quest'anno è dedicato alle onlus che fanno grazie allo sport del bene in Italia, comunque in tutte le zone d'Italia, è molto importante perché sappiamo bene quanto il potere dello sport sia importante per cercare di veicolarlo, appunto per chi è più sfortunato, chi è più disagiato e in questo caso le onlus che operano in questo settore sono cinque ma ne sono state nominate tantissime altre. Nell'accorso della serata non mancheranno l'intrattenimento e le sorprese, aspetti a cui gli organizzatori hanno sempre riservato una particolare attenzione. C'è tempo fino al 19 febbraio per consentire a chiunque di votare sul web un atleta in ogni categoria. Ai più fortunati verrà permesso di salire sul palco per consegnare un premio a uno specifico vincitore.